Prezzi alle stelle e difficoltà di trovare mano d'opera, è questo l'autunno a cui ci dobbiamo preparare. L'allarme arriva soprattutto dal mondo dell'artigianato, sempre più in difficoltà a reperire forza lavoro. Purtroppo ancora manca un po' di cultura l'avvicinare i giovani al mondo artigiano. Di fatto, paradossalmente, a fronte anche di tanta disoccupazione, le nostre aziende hanno necessità di forza lavoro e non riescono a trovare. Quindi dovremo lavorare anche per rendere tutti insieme con le altre associazioni, per rendere più appetibile il nostro mestiere. Far capire che ancora può dare soddisfazioni, con l'impegno si possono ottenere risultati. E questo è un lavoro da fare in maniera congiunta, cercare ancora una volta, e tanto cerchiamo di farlo, di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. I ragazzi escono ma non sono preparati? No, appunto, le aziende si devono far carico anche della formazione, senza avere purtroppo nessuna certezza del proseguo del ragazzo stesso. Quindi per noi diventa un onere. Quindi ci sono molti problemi da risolvere, però devono essere affrontati anche in maniera seria, concreta e velocemente, perché il momento non è assolutamente favorevole. Più che altro è retto da una sorta di criticità, di incertezza, che bloccano anche eventuali investimenti nel settore anche delle infrastrutture, dei macchinari e anche di investimenti in termini di organico, di personale.